Nuova vita ai giardini leopardi e una nuova veste per la corte malatestiana. È stata presentata questa mattina in comune a Fano la riqualificazione che vedrà un ammodernamento della zona dei giardini con nuove sedute, un nuovo manto erboso, alberature e un'illuminazione scenica, mentre all'interno della corte un grande prato erboso inclinato per dare la possibilità di organizzare eventi o di usufruire dello stesso luogo poco frequentato. Un progetto innovativo e ambizioso ideato dallo studio Panni di Fano insieme agli ingegneri Laura Mazzei e Alessandro Busca di Bologna. Si è pensato di ispirarsi alla poesia dell'infinito appunto di Lopardo e quindi doteremo queste sedute di un sistema di riduzione attivo del rumore, Active Noise Control, che è un sistema che è usato negli elicotteri per permettere di poter dialogare diciamo i piloti senza avere rumore. Praticamente ci si siede e il rumore dello spazio intorno rimane ovattato. Elemento scenico sarà la nuova fontana che vedrà la collocazione del puteale, ovvero il pozzo oggi presente al centro dei giardini, sopra un basamento contornato d'acqua con effetti di luce. Da qui la realizzazione di un camminamento che collegherà via Nolfi alla corte fino alla piazza. Per ipotizzare un uso, eventuali spettacoli, delle attività in qualche modo soft, non certamente quelle degli spettacoli della corte malatestiana con le gradinate alti 5 metri insomma, abbiamo dotato praticamente due prati erbosi, quindi ripristinando in qualche modo il concetto del giardino all'italiana, dando una leggera inclinata ma ipotizzandoli come una specie di tappeto erboso che si sovrappone alle strutture esistenti in modo da ridurne l'impatto con il manufatto storico proprio perché questi due prati galleggerebbero sopra la struttura esistente. All'interno della corte poi verrà realizzata una zona che sarà dedicata al box informazioni e ai servizi igienici. Anche alcuni reperti storici esterni vedranno una nuova luce con nuovi collocamenti e una maggiore visibilità. Questo bando al PNRR a cui accediamo è un bando che ci finanzierà fino a 2 milioni di euro fino ad un minimo di 200 mila euro. Noi andiamo con il massimo della capacità, quindi ci candidiamo con un progetto di 1 milione e 8. Una delle caratteristiche di questo bando vuole proprio anche il miglioramento delle barriere, l'abbattimento delle barriere architettoniche, tanto che verranno previsti sia nella parte dei giardini lopardi che all'interno della corte. Ecco, ora incrociamo le dita e speriamo il meglio. Cerchiamo di cogliere questa occasione, ovviamente sta in una progettualità che vuole valorizzare il nostro centro storico e soprattutto vuole riportare all'attenzione, renderlo visibile e condiviso. Ovviamente si unisce ad altre qualificazioni di piazze della nostra città già programmata e quindi, come mi piace dire, è una città che diventa sempre più bella e sono convinto che al termine di questo percorso sarà una delle città protagoniste del nostro territorio regionale.